Due imprenditori di aziende attive nel settore giochi e scommesse a Bari ed Acquaviva delle Fonti sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. In base alle indagini delle Fiamme Gialle, una delle aziende coinvolte avrebbe ceduto un ramo d'impresa composto da quattro sale bingo e due videolotteri in vari centri della Puglia, Bari, Martina Franca, Taranto e Casa Massima, ma anche di Abruzzo e delle Marche del valore di 9 milioni di euro a un'altra società intestata alla madre di uno dei due imprenditori al prezzo sottostimato di 120 mila euro. L'azienda privata di ogni fonte di reddito è gravata da una rilevante esposizione debitoria verso l'erario quantificata in oltre 18 milioni di euro, sarebbe stata dopo la cessione dichiarata fallita dal Tribunale di Bari nel luglio del 2019. Al termine delle indagini sono state accertate a danno delle due aziende coinvolte la distrazione e la dissipazione di beni societari per un valore complessivo di oltre 8,6 milioni di euro. Il GIP inoltre ha evidenziato che uno degli indagati, nonostante vi fossero difficoltà nel pagare gli stipendi dei dipendenti, avrebbe sottratto dalle case societarie circa 7 mila euro per giocare alle macchinette nella sala slot di una delle aziende coinvolte. Grazie. 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 Grazie.